Un protocollo d'intesa permetterà già dopo Natale di intervenire sulla torre civica di Palazzo Margherita per restituire anche l'ultimo tassello del Palazzo Municipale alla città. È stato sottoscritto nella sede della Fondazione Carispac perché sarà proprio lei a portare avanti l'intervento grazie alle somme, 3 milioni di euro, raccolte grazie alla Comunità degli Italiani in Australia e al Governo australiano. In videoconferenza anche i componenti del Comitato degli Italiani in Australia. L'appalto sarà velocissimo perché la Fondazione sarà soggetto attuatore. La gestione del progetto sarà supervisionata da un comitato di garanzia che vedrà personaggi di spicco, come il Rettore dell'Ateneo, i Presidenti di Ordini dei Medici, degli Ingegneri e altri. La torre civica rappresenta uno degli elementi maggiormente identitari della comunità, con il progetto esecutivo che sarà curato dal settore ricostruzione del Comune e consisterà nel consolidamento del sistema di sottofondazione delle murature portanti e nella realizzazione di una struttura interna in acciaio per inserire una scala di ispezione interna, oltre al restauro dell'apparato lapideo e decorativo rinvenuto. Sulla sicurezza della torre sono stati avanzati molti dubbi nei giorni scorsi, ma il Sindaco ha rimandato al mittente, affermando che se si è rientrati è perché lo si poteva fare. Darà la possibilità alla Fondazione di intervenire. Voi sapete che la Fondazione quando interviene è velocissima, quindi le pastoie burocratiche sono meno pesanti e siamo in condizione di dire che daremo presto alla città la possibilità di tornare in quel palazzo con sicurezza, con tutta la torre che sarà restaurata dalla Fondazione. Quando potrebbero iniziare già i lavori? Ma io penso che appena dopo Natale noi siamo pronti per poter fare tutto quanto il percorso. Come sapete le procedure con noi sono molto più veloci e l'abbiamo già dimostrato. Tutto quello che sta qua intorno di bello l'ha fatto la Fondazione. Quella pure è una realtà bella, il palazzo storico del Comune, ed è bene che anche quello sia completato con la torre e venga ridato alla città per essere goduto nel tempo.